In realtà non è la prima volta perché ho già fatto una crociera un po' particolare, era una nave da guerra, era la famosa Garibaldi, dove ho girato un film con la regia di Pasquale Squitieri, però sono contento di aver realizzato un sogno che era quella di fare una vera crociera su Costa Crociera, fa anche rima.